Ciao sono Coco! Mamma desu! Ciao! Zucca alla giapponese! Noi mangiamo anche buccia, non bisogna togliere, buttare via. Ci sono tante nutrizioni, non buttare. Ho fatto video. Prego! C'è i nostri roli. C'è un po' il tante. Quella, è il piatto. Ho chystato. Poi tutto il centro Dovino una delle potele Poi un po' di carne Poi un po' di carne solo semi non si può mangiare però altra parte dove c'è morbido meglio mangiare sono tanti nutrizioni utili questa parte anche in Giappone non mangiamo però buccia lasciamo e poi mangiamo non bisogna buttare via ok 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 Oli odriva Quanti sono? Il cao Il cao Acqua così il brodo di pesce e aruga kombu c'è tutto naturale in polvere importante il brodo quindi forse potete provare un altro brodo italiano noi questo sa che mirin salsa di soia otoshibuta questo coperchio di legno serve per fare assorbere condimenti bene fita osti coperchio vero per assorbire come noってるから un po' noった oto un po' basso deve assurare un po senza coperchio Pronto! Zuccaro giapponese! Meglio aspettare un po' Appena fatta è molto morbido Più facile di diventare Show liere così Però buono appena fatta Ok, questo è tutto Quasi buoni Quasi buoni Itadakimasu! Zucca al japonese! Dobbiamo cominciare con zuppa di miso Sashimi di hamaji Piccolo buri Hamachi è piccolo buri Però quello di oggi era enorme Era così Quasi buri Quindi dovrebbe essere molto buono Con shiso, erba giapponese e daikon tagliato sottile Wasabi Non si può sciogliere dentro la salsa di soya Perché non è elegante Cosa 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 Molto gustoso Molto grasso Buri o no? Cosa Cosa Quasi buri Molto buono Cosa Zucca al japonese Io piatto preferito Cosa 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 Molto dolce Molto dolce Non so se Icquerelli Buccia Non da fastidio Nieten Cosa 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 anche buono questo sembra vegetariana però non lo è abbiamo messo brodo di pesce spinaccia alla giapponese ohitashi ponzu salsa di soya agurumi Bocca Alcantà Alcantà conna Mро Mro Mro Yeah Sì In Giappone si dice uno zuppa e tre piatti, quindi va bene tre piatti, noi uno, due, tre, quattro, cinque, cinque piatti più zuppa, quindi più abbondante di solito, non di solito, quello di media, però mia mamma cucina, cucinava così tanto, usava tanti ingredienti, preparava tanti piatti da sempre, no, c'è l'olta, c'è l'olta, e non c'è l'olta. La c'è l'olta, tanti verdure, non carne, carne poco. al prossimo video ciao ciao